La seconda parte di Basket Time, questa sera lo avete visto ospite nei nostri studi Federico Campanella, Federico Campanella l'assistente, l'assistente coach di Paolo Moretti, il suo a Siena è un ritorno perché da Siena sostanzialmente era iniziata la carriera di allenatore, poi nel settore giovanile, poi gli anni da capo allenatore a Cecina e Montecatini, ne parliamo fra poco, prima andiamo a vedere una clip che ho realizzato e che riguarda Federico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.